Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vestiamo il nostro Baby Born con un kit, un set per l'estate, quindi non solo un costume ma anche cappellino, occhiali da sole e scarpine. Lo trovo veramente carino, un'idea originale e particolare per preparare anche i nostri bambolotti all'estate che comunque prima o poi dovrà arrivare. E ora infatti vi faccio vedere cosa c'è dentro qui. Allora, qui abbiamo il costumino che è veramente delizioso, con questi palloncini mi ricorda tanto un cartone animato che sicuramente voi vi ricorderete, ovvero App, che a me è piaciuto tantissimo. Qui abbiamo dei coniglietti, dei cagnolini, abbiamo dei palloncini, delle nuvolette con scritto You make me happy, mi rendi felice, let's fly together, voliamo insieme, I'm the break, ho bisogno di una pausa. Tanti palloncini colorati che è la cosa che mi piace di più di questo costumino. Togliamo l'appendino, eccolo qui, il costumino, veramente fatto bene in realtà. Qui abbiamo le scarpine, che sono delle mini crocs, quindi un baby born anche alla moda, con la nostra margheritina, carinissima, un'idea veramente carina per abbellirle, tutte rosa, di plastica, flessibili, con alcune stelline, vedete sul davanti. Molto, molto carine. Poi non è finita perché abbiamo anche gli occhiali da sole, super cool, per riparare il nostro baby born dai raggi del sole. E poi per finire il nostro cappellino, per riparare la testa del nostro baby born, e vedete con un cagnolino, un salvagente, molto carino perché è carinissimo, veramente dolcissimo, vedete che si può anche allargare, quindi elastico. E ora possiamo dire che possiamo procedere a vestire il nostro babbolotto. Wow, il nostro baby born è pronto per la spiaggia. Direi che è super cool, quindi si farà notare. Carinissimo, veramente uno stile unico. Questo costumino mi piace troppo, scusate, so che lo ripeto tante volte, ma è veramente carinissimo, con questi palloncini mi ha rubato il cuore. E quindi niente, noi vi aspettiamo sulla spiaggia. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, se avete anche voi comprato un set per l'estate, per i vostri bambolotti, oppure se magari ne avete comprato uno per bambini veri, che è molto simile a questo. Diteci cosa ne pensate, seguite sempre il nostro canale, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!